Europe Direct Catania, dopo il primo evento che abbiamo raccontato e che è segnato l'inizio di questa avventura catanese, si propongono nuovi appuntamenti. Siamo qui proprio per parlare di quello che accadrà con il dottor Ursino che salutiamo. Allora, il 18 marzo è un primo evento dedicato ai giovani, ma soprattutto partiamo proprio dal grande evento, quello del 6 aprile. Quale sarà il filo conduttore stavolta? Il filo conduttore è come l'Europa supporta la ricerca nella trasformazione digitale e abbiamo coinvolto, infatti questo è un evento, insieme al DA, il Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Elettronica e Informatica dell'Università di Catania, e insieme all'Innovation Lab Catania. Parleremo di tutto quello che si fa dalle nostre parti e quindi si parlerà per esempio di AAL, domotica per il mondo degli disabili e per il mondo degli anziani, con il professore Bruno Andò, di Robotica con il professore Muscato, di Aspetti elettrici con il professore Mario Cacciato, poi parleremo con Gianluca Giussolisi di elettronica e di microprocessori e così via, con Giovanni Schembra di 5G, perché con la 5G verranno a essere cambiati molti modelli di business, ci saranno nuove applicazioni che verranno fuori perché si abbatterà di molto la latenza, nasceranno, cambieranno molte cose nella nostra vita e quindi la 5G va affrontata, va conosciuta, ne parleremo con Giovanni Schembra, ma poi si parlerà di health, si parlerà di, per esempio con Giuseppe Inturi, il professore Inturo, di mobilità sostenibile, Giuseppe è uno dei più grandi esperti di mobilità e poi ci saranno anche delle figure come l'Ingv, con Mauro Coltelli e Luca Porcaro, del Gio Group, che parleranno del più importante progetto sulle smart cities in Sicilia, che si chiama Secesta e Via Safe, sul monitoraggio delle ceneri vulcaniche, si parlerà di biotecnologie, col progetto PQU Sensor, se ne parleranno in questo caso la professoressa Marianna e poi con insieme a Marianna Messina e insieme al dottore, l'ingegnere Anselmo Viola, insomma ci saranno tantissimi argomenti, tutti che riguardano la ricerca, ho dimenticato sicuramente qualcuno, tutti che riguardano la ricerca nella trasformazione digitale, sarà sicuramente molto interessante perché ogni intervento durerà non più di 10 minuti, quindi modello TED, modello molto veloce e ci sarà pure la possibilità del dibattito, si terrà alle ore 10 del giovedì 6 aprile nell'aula magna didattica, quella grande della cittadella, che ha circa 350 posti a sedere, quindi abbiamo scelto una sede molto grande perché sappiamo quanto possa essere interessante per il mondo universitario della cittadella un incontro dove tanti di questi professori così in gamba possono dire per un attimo la loro a un grande pubblico e rientra sicuramente nelle mission sia del Joe Group che dello Europe Direct. Ecco per entrare diciamo anche su quella che è la mission appunto perché ci siamo lasciati a dicembre parlando della necessità di inculcare un modello europeo che magari su Catania ancora non è rientrato del tutto, ecco questo nuovo appuntamento rientra sempre in quell'ottica, portare quella che è l'innovazione, portare quello che è il pensiero europeo, un'apertura al futuro anche a Catania dove magari ancora questo processo di avanzamento tecnologico, digitale non è del tutto radicato, anche questa diciamo è sempre la mission dell'Europe Direct. Sì diciamo che in tutti i territori che hanno degli aspetti di sottosviluppo ci sono sia momenti di eccellenza e c'è tanti a Catania sia anche diciamo territori un pochettino più poveri. In questa occasione noi cercheremo di valorizzare i momenti di eccellenza che il nostro territorio ha, quindi non è che tutto è grigio da noi, ci sono anche delle belle realtà sia a livello aziendale sia a livello universitario e vanno valorizzate. Ultima domanda per rientrare anche sull'introduzione, 18 marzo ci sarà un altro appuntamento, in quel caso cosa succederà? Allora uno dei problemi che si pongono oggi i ragazzi è rimanere in Sicilia e andarsene. Allora andare a capire che ci sono opportunità per rimanere in Sicilia perché questo brain train, questo fatto che la gente se ne scappa poi dalla Sicilia che è una terra bellissima, ovviamente impoverisce sotto ogni aspetto perché sono i giovani che poi possono davvero cambiare gli assetti di un territorio. Allora noi in quel caso parleremo delle opportunità che ci sono per rimanere qui in Sicilia e parleremo in questo caso, una saletta più piccola, con un gruppo di universitari e ci saranno dei relatori che gli spiegheranno i vari aspetti di loro interesse. Grazie a tutti.